Progetto Magna Grecia, Bruxelles, per la prima volta sette opere d'arte, tesori del patrimonio archeologico europeo, in esposizione nella sede del Parlamento Europeo. Dario Carella. In mostra al terzo piano del Parlamento Europeo, il piano nobile, dove è situato l'emiciclo, dove si riunisce l'Assemblea Legislativa, sette tesori dell'arte della Magna Grecia calabrese. Alle radici dell'Europa, Progetto Magna Grecia, un grande passato davanti a noi, è infatti il titolo della mostra, che è stata inaugurata nella sede del Parlamento Europeo. Per la prima volta a rievocare storie e splendore delle colonie della Magna Grecia calabrese, la testa del filosofo, il Kuros di Reggio, il Dio Oscuro di Locri, il Toro Cozzante di Sibari, la Stele Marmorea di Crotone, l'Elmo Corinzio di Vibo Valencia e il Cratere con scene di caccia di Gioia Tauro. La mostra è stata organizzata da Progetto Magna Grecia, un'idea dell'europarlamentare Pino Arlacchi, con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio archeologico della Calabria. Questa mostra è l'altra faccia della Calabria, cioè le vere radici della Calabria, che poi sono le vere radici dell'Europa. Quindi il Parlamento Europeo sta ospitando un evento che interessa tutti, proprio perché nella Grecia antica e nella Magna Grecia ci sono le origini del mondo occidentale, le origini dell'arte, della scienza e della cultura. È importante per la Calabria perché anche la Calabria ha avuto il suo grande momento di gloria, per 300-400 anni è stata al centro del mondo, con una cultura, quella greca, che oggi in Parlamento è fonte di ispirazione dell'intera costruzione europea. Una mostra straordinaria che ha portato alla ribalta i tesori di una regione profondamente inserita nell'Unione Europea.